DAF è presente all'ecomondo ed è presente in un contesto di economia circolare. Questo veicolo, il DAF XE elettrico, è uno tra i veicoli che completano la gamma elettrica, quindi a zero emissioni, che DAF presenta sul mercato nazionale. In questo contesto è importante ricordare che DAF ha completato tutta la gamma, quindi dal segmento dei leggeri ai pesanti, sia trattori che carri. Abbiamo un'autonomia nominale fino a 500 km e questo ci consente di soddisfare una pluralità di esigenze di trasporto. A questo dobbiamo aggiungere che questo veicolo non è solo green, non è solo amico dell'ambiente, ma è un veicolo estremamente sicuro. Alcuni esempi, la telecamera per l'angolo cieco, che è un'altra novità che ha il nostro veicolo, e quindi anche in questo campo e in questo senso DAF è avanti nello sviluppo di questo tipo di tecnologie. Questo veicolo è dotato anche degli ADAS, che sono quegli strumenti, come sapete, che sono necessari a garantire maggiore sicurezza sulle strade, specie per la distribuzione cittadina. Sapete che in alcune città italiane ci sono dei vincoli di ingresso proprio in ragione della sicurezza stradale, soprattutto dei ciclisti. A questo caso, guardate questo bel finestrino, questo è quello che consente al guidatore di avere una visibilità eccezionale anche lato, diciamo così, passeggero. Quindi queste sono una delle n novità che DAF presenta all'ecomondo e che in qualche modo rispondono a esigenze sia di carattere ambientale che di sicurezza stradale.